Buongiorno a tutti e grazie Stefano, grazie per avermi invitato a introdurre questa giornata che vogliamo aprire appunto con un punto di vista di Rios, la rete di cui siamo parte sull'innovazione. Io sono Valentina Delprete, mi occupo dello sviluppo di business di Rios e mi occupo della direzione generale di Sicom, che è un'azienda del gruppo. Abbiamo un po' pensato a cosa potevamo portare oggi, come Rios parliamo di open source a vario livello, dall'offerta alla proposizione sul mercato, ai prodotti, alle soluzioni. Abbiamo cercato appunto per stare in tema con la giornata in cui si parla di innovazione, di capire come l'open source in sé e con i suoi modelli di business sia un veicolo per l'innovazione. Quindi cerchiamo insomma di dare un punto diverso, di vista diverso all'open source rispetto a quello più classico che abbiamo dato nelle edizioni precedenti, in cui invece abbiamo fatto una presentazione un po' più standard su quello che facciamo e cosa portiamo sul mercato. Partiamo sempre comunque da Cosa è Rios, che è la rete italiana open source, chiaramente l'italiano non ve la spiegherò, mentre invece rete secondo me è importante ridirselo, no? Qual è lo scopo della rete? Che è quello di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Questo che sembra diciamo una frase composta insomma da un po' di parole, in realtà è la sostanza di quello che facciamo, perché come rete di impresa, quindi come un network, un sistema di aziende, quello che facciamo è crescere sia individualmente, perché ogni progetto viene sviluppato all'interno delle singole aziende, quindi con l'agilità della piccola azienda, e poi collettivamente per creare invece un sistema, un ecosistema ben più composto e che riesca a dare ai nostri clienti servizi sempre maggiori. E questo ci permette appunto di avere la velocità di scegliere l'innovazione, ma anche la capacità insieme di essere più competitivi. Chi siamo? Vabbè, ci conoscete, sono un po' di anni che ci presentiamo, ma soprattutto volevamo farvi vedere chi sono alcuni dei nostri clienti, che con noi hanno scelto un open source di livello, di livello enterprise. Ma entriamo un pochino più nel dettaglio di quello di cui vorremmo parlare oggi, quindi diciamo la rete l'abbiamo solo accennata, parliamo invece dell'open source e come questo possa essere un veicolo di innovazione per rimanere appunto, come dicevamo, nel tema della giornata. L'open source, partiamo un po' da lontano, ma in realtà non si può definire se prima non si parla di quali sono le sue quattro libertà. Leggerete, non ve le spiegherò una a una, ma diciamo il concetto di base è quello che il software deve essere rilasciato e può essere utilizzato da tutti e a sua volta deve essere ancora rilasciato e rimanere a disposizione. Questo, che in linea di principio chiaramente è anche un valore etico molto bello di ridistribuzione della conoscenza alla società, in realtà crea delle domande, no? Quando ci si vanno a costruire sopra dei modelli di business, o ci si vuole costruire un mercato, ma l'open si vende davvero? E se sì come, considerando che è una cosa disponibile a tutti? E su questo chiaramente la rete, le aziende che ci stanno dentro, ma non solo noi, ci interroghiamo da anni, ma la risposta è chiaramente sì. Qui vedete alcuni di 40, più di 40 progetti, ma dove ci sono nomi che sono tra pilastri mondiali dell'economia. Ci sta Google, ci sta Red Hat, ci sta Ubuntu, quindi ci sono sistemi che hanno creato sull'open source un vero e proprio patrimonio economico. Quindi in realtà sì, si vende. E quindi capiamo quando vale la pena proporsi sul mercato essendo open source e quando non esserlo. Ci siamo fatti questa domanda e probabilmente la risposta è non essere open source, non conviene essere open source se si ha una posizione dominante in un mercato chiuso. Non mi sentirei mai di dire a Coca-Cola di aprire la propria ricetta, non è lì diciamo che sta il valore dell'open source, no? Quindi in questo caso un po' limite va detto perché questi casi sono pochi, secondo me valutare l'open source non ha molto senso. Ha invece molto senso in altri contesti, quindi se si è un follower, quindi se non si è il primo in un mercato, se si vuole entrare in un mercato che esiste già, quando il mercato di riferimento si sta allargando, quindi si sta perdendo quel vantaggio competitivo di essere il primo, se ci si vuole allargare su un altro mercato, oppure se si è individuato un modello di revenue, quindi di economico, da cui guadagnare è diverso da quello di prodotto o da quello standard di quel mercato. In pratica tutte le volte che si fa innovazione, perché tutte le volte che si entra in un nuovo mercato, tutte le volte che si sparigliano le regole di un mercato, ci si sposta, a destra o a sinistra in mercati collaborali, si crea di fatto innovazione, perché si altera uno status quo, che è quello di un unico player o pochi player in un mercato consolidato, e quindi molto rigido, e quindi si spariglia il modello e si porta innovazione. Da open a standard poi il passo si fa da sé, è quasi una coppia perfetta, no? Perché quando si parla di sistemi open source, chiaramente questi vengono studiati e realizzati per non rimanere a sé stanti, ma andarsi a mettere in un ecosistema. Un ecosistema che per parlare tra di loro, per permettere agli applicativi di parlare tra di loro, ha bisogno di avere protocolli standard, quindi di avere lo stesso linguaggio comune agli applicativi in modo che le informazioni possano scambiarsi. Questo porta quindi alla creazione di architetture standard, quindi quasi sempre nel mondo architetturale si sceglie l'open source perché permette di avere dei riferimenti comuni sia a me che alle aziende con cui devo collaborare o con cui devo appunto mettere in relazione le informazioni, per poi arrivare alle linee guida, che se vogliamo sono il terzo elemento, quello più alto, di condivisione dei protocolli. Cioè le linee guida altro che non sono che la strazione di processi e procedure che ci permettono di identificare come i nostri applicativi e la nostra innovazione si deve comporre per essere interagibile con quelle degli altri. E da qui, secondo me, il grande valore che l'open source ha nelle pubbliche amministrazioni, che insomma sono il grande protagonista di questa giornata. Se guardate bene, le linee guida dell'acquisizione e del riuso del software per la pubblica amministrazione altro non sono quello che abbiamo detto. Quindi la promozione del software aperto e libero, quindi una composizione tra open source e protocolli standard, di avere appunto delle architetture standard che garantiscono a tutti l'interscambio delle idee e quindi le famose linee guida agide, di cui credo che nella giornata parlerete molto. Forse serve un ospo. Allora, non è semplice avere l'open source in casa, non è semplice sviluppare i modelli di business dell'open source, perché, come sappiamo, i modelli di business open e avere lo stesso open source in casa comporta delle cose da sapere dal punto di vista legale, dal punto di vista di compliance, dal punto di vista di integrazione del software con altri. Quindi quello che noi, diciamo, stiamo promuovendo è un servizio di open source program office, the service, Rios, può darvi tutti i consigli per capire a che livello di maturità siete rispetto al programma e l'acquisizione dell'open source che avete deciso di intraprendere. Questo lo facciamo attraverso l'uso del GGI, la Good Governance Initiative, che ha tradotto in cinque goal le domande che ci dovremmo fare sul software open. Quindi l'utilizzo che ne facciamo, quanto ci crediamo in termini, quanto è trastato in termini di utilizzo, quanto abbiamo la cultura dell'open, che non è solo lo sfruttamento del software open, ma è anche una ridistribuzione alla comunità del valore dell'open source in sé, quanto abbiamo engagement e quanto la nostra strategia si basa sull'open source. Quindi, diciamo, ho parlato un po' della capacità di innovazione dell'open source e di quanto dobbiamo essere consapevoli del suo valore per generare tutto quello che poi sta nell'ottica dell'open source e dell'open innovation, e con questo vi ringrazio e per oggi buona pena a tutti.